Il 34 rimane. Allora il 34 era il pettamatta di Bibigai. Il 44. Il 44 va a Corona. Ah. Il 44 era il vino novice di Montepulciano, nocio dei Boscarelli 2005. Il monce. Il boccio di rete. Il boccio di rete. Il 45. Rimane. Era il vino novice di Montepulciano, di Serra Bussona 2004. Il 46. Di Caterina lei, eh. Il 46 rimane. Il 46 era il vino novice di Montepulciano 2005, il conventino. Il 47. Il 47 era il vino novice di Montepulciano 2005, le Berne. Il 48. Il 48 c'è un exequo di nuovo. Beh, era la riserva del 2004 in assoluto più buona. Sì. Questo è, per me è una corona, è una corona ben data. È un grandissimo nobile. Sì, ed è la riserva del 2004 delle Berne. Le Berne. È anche piuttosto pronta rispetto agli altri. Ottimo. Ma è stato l'assaggio più convincente che abbiamo fatto a Montepulciano che stanno in a Montepulciano che andavano a dire, per me. Grazie.